Il 2024 mi tolgo il mio altro, togliamo una sistemata ai labboni. Allora, una cosa molto semplice. Togliamo quelli secchi, questo è secco, questo è secco, secco. Vabbè, non posso metterli per vedere e poi racconto. Questo è secco, secco, secco. E questo è più secco, poi questo che è secco, ecco qui, e quindi togliamo anche un po' di erba qui. Poi devo fare una pulita più profondita. Ma quello che mi interessa adesso è legare i labboni, che non devono essere di intraccio. Ecco, qui, allora, la prima le calzule è qui. No, qui ce sto lasciando. Vabbè. Allora, le calzule le faccio qui, questo mi chiuò, questo mi chiuò. e quindi sempre questi tre mettiamo qui ecco qui va bene a parte c'è questa qua o l'altra parte la pieghe mette una mazza che traverso l'occhio ecco qui avanti il prossimo allora secco 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 bene sparo buone ecco la data la data veramente nemmeno perché questa cosa comunque sia questa qui facciamo una piccola ragazza per qui sopra però adesso e poi dopo ecco qui al prossimo il prossimo togliamo questo secco allora questo questo e lo lasciamo ram, ram, ram secco secco questo è secco questo è secco si vede quanto so rompe che è secco, guarda 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 qui qui questo è verde allora questo è secco ho tutta questa roba questa qua racconto se pare la plastica ecco lo spago questo è un po' di plastica allora abbiamo uno due tre e quattro facciamo una prima ragazzo da qui ma qui c'è un'altra no ci viene quindi adesso adesso e ecco ecco questa ecco cos'è 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 eh si legano allora questo deve legare bene eh molto picciola sto facendo così ecco spagno